come in italiano così in latino i dimostrativi pronomi e aggettivi precisano un elemento della frase indicandone la posizione nello spazio vicino lontano qui la o nel tempo ora allora in relazione a chi parla o a chi ascolta i che coc si riferisce a persona o cosa vicina a chi parla nella vignetta infatti è usato per indicare il giovane pubblico che si trova vicino al padre il padre dice ora porterò un juvenem questo giovane al in foro nel foro un è usato perché padre figlio sono vicini il padre si rivolge al figlio che si trova vicino a lui ist e ista istud corrisponde più o meno all'italiano codesto codesta e si riferisce a persona o a cosa vicina a chi ascolta in questo caso il padre che il padre pubblico esorta il figlio a togliersi exue bullam istam codesto amuleto perché usa istam perché l'amuleto in questione la bulla è vicina non a chi parla ma a chi ascolta cioè al giovane pubblico che si sta togliendo appunto l'amuleto in italiano possiamo tradurre ist e ista istud con codesto o codesta che tuttavia sono forme desuete o usate soltanto in toscana possiamo tranquillamente tradurre ist e ista istud con quello e poi abbiamo il illa illud che conosciamo già che può essere usato come gli altri sia come pronome che come aggettivo ille si riferisce a persona o a cosa lontana rispetto a chi parla infatti pomponia e il figlio minore stanno parlando di pubblico che sta indossando la toga virile non a caso la madre usa in funzione di pronome ille per indicare il figlio che è lontano da lei quindi in questo caso il usato come pronome indica una persona che non è vicina bensì lontana rispetto a chi parla ecco in italiano quando è usato come pronome il illa illud corrisponde al nostro lui egli e la lei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti